ciao a tutti e benvenuti su esperimentificio per quelli che pensano che gli scienziati siano persone noiose che si occupano di cose noiose oggi vi presento questo articolo pubblicato sulla rivista interface della royal society tanta roba da due ingegneri francesi dal titolo popcorn critical temperature jump and sound in cui si spiega perché i popcorn esplodono saltano e fanno pop l'articolo è pieno di tabelle formule grafici ma anche di bellissimi disegni in cui si paragona il salto di popcorn a quello di un uomo che fa un salto mortale ora noi possiamo provare a ripetere l'esperimento per fare l'esperimento mi sono spostato in cucina perché ho bisogno di una fonte di calore io userò questa piastra elettrica qui questa piastra elettrica qui e ovviamente dei popcorn bello il popcorn che salta anche se c'erano quelli sfigati però a questa velocità non si vede niente quindi adesso rifacciamo il video ma ad alta velocità la domanda però è sono solo i chicchi di grano che possono esplodere o anche qualcosa altro non lo so io ho provato con quello che avevo a casa cioè con un chicco di riso e un ceccio ok vi starete chiedendo ma che razza di video è questo perché mi mostra una roba così banale come i popcorn che scoppiano beh per due motivi uno perché mi piace fare video in slow motion e due perché questo esperimento mi dà l'occasione di parlare di una cosa che mi sta molto a cuore e cioè il metodo scientifico quello che hanno fatto gli autori dell'articolo infatti è un buon esempio di come procede o dovrebbe procedere la ricerca scientifica si osserva un fenomeno il popcorn che esplode si prova a descriverlo quando accade come accade cosa succede esattamente eccetera eccetera poi si fanno delle misure di alcune grandezze importanti a che temperatura scoppiano quanto in alto saltano quanto ruotano quando si sente il suono che tipo di suono è che volume ha eccetera 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 la misura è una parte fondamentale della scienza senza misura non c'è scienza basandoci su ciò che si conosce già cioè sulla chimica la fisica che si è imparata si formulano delle leggi che descrivono il fenomeno in questo caso il popcorn esplode perché l'acqua contenuta all'interno del chicco di grano con la temperatura tende ad evaporare gonfia il chicco la pressione aumenta finché la buccia del chicco stesso non si rompe il popcorn poi salta perché l'amido all'interno del chicco sempre si gonfia e quindi spinge il popcorn in alto e fa quel rumore tipico cioè il pop a causa proprio del vapore acqueo che viene rilasciato dall'interno del chicco stesso le leggi nella scienza hanno una forma matematica cioè sono delle equazioni una volta stabilite le leggi si usano per fare delle previsioni confrontarle con degli esperimenti se gli esperimenti danno dei risultati diversi da quelli che dicono le leggi ovviamente sono le leggi che vanno ritoccate perché in ogni caso l'esperimento quindi il fenomeno naturale che ha ragione poi si provano queste leggi con dei fenomeni simili come per esempio fatto io usando i ceci o riso invece che il grano e si vede cosa succede se la legge in questo caso non funziona cioè non prevede il fenomeno nel modo giusto si cerca di capire cosa c'è di diverso e cosa va aggiunto alla legge per essere più generale però alla fine di tutto questo manca la risposta alla domanda principale perché fare tutto questo beh perché l'umanità è curiosa perché c'è qualcosa che ci spinge a farci delle domande a esplorare a scoprire cose nuove a chiedersi come funziona quello che ci succede attorno ma soprattutto perché la scienza è una figata pazzesca e anche per oggi da esperimentificio è tutto mi raccomando seguitemi e ci vediamo al prossimo esperimento ciao ciao